Ciao ragazzi, siamo sul set di Monica Chef e siamo nella stanza speciale di Barbara e Monica. Qui con me c'è Isabel, la protagonista della serie. Ciao! Raccontaci qualcosa di Monica. Monica è una ragazza giovane, molto gentile, molto legata ai suoi amici, o testona se proprio devo tirare fuori un aspetto negativo. Se ti importasse del mio futuro mi lasceresti almeno provare! Lei cerca di realizzare i suoi sogni e il suo sogno più grande è diventare una grande chef. Amo la cucina, voglio imparare ogni piatto, ogni ricetta, ogni momento con suo padre, fa tutto con molto amore. E questa è una caratteristica del personaggio molto bella, che a dirla tutta si apprezza davvero. E poi ha una sognatrice, una gran sognatrice. È la sua caratteristica top. Monica immagina ciò che vuole che accada e poi trasforma i sogni in canzoni, coreografie, balletti. Lei crede davvero che si avvereranno. E poi all'improvviso capisce e... Ah, no, 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 no! E lei, signorina, non ha sentito? Ah, le chiedo scusa, davvero! C'è una scena molto importante nella serie, che è quando Monica fa la competizione di cucina per entrare nella scuola. Com'è stato girarla? Per prepararmi ho cercato di informarmi su come le persone vivono davvero una cosa così. La verità è che è incredibile quanta passione ci voglia per sostenere lo stress. Perché è... Vieni, veloce, fai questo, devi essere più veloce, taglia e vai là, prendi quello! Comunque è stata un'esperienza molto bella, anche se si percepiva un pochino uno stress in questa prova di cucina, che deciderà chi entra nella scuola e chi no. Monica ha la passione della cucina, ma Isabel che passione ha? Beh, Isabel ne ha diverse di passioni. Mi piace molto cantare e adoro recitare. Tutto quello che ha a che vedere col trasmettere emozioni alle persone mi piace moltissimo. Dovete sapere che io e Isabel non siamo solo migliori amiche nella serie, siamo diventate moltissime amiche anche nella realtà. Perché quando io sono arrivata qui non parlavo assolutamente quasi niente di spagnolo. I primi giorni era veramente difficile parlare con te. Sì, perché io non parlavo, non parlavo. No, 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 no. Ah sì, parlando un inglese, spagnolo, italiano, italiano, siamo diventate amiche. Non perdere la nuova serie Monica Sheff dal 31 marzo. Solo a Disney Channel.